però bisogna dire anche che c'è il summer jam questo weekend anzi in questo momento loro lo stanno facendo siamo secondi dopo di loro c'è poca differenza alla fine di questo torneo 6.500 spettatori alla fine del summer jam secondo me qualche altra cosetta ce la fanno vedere ma adesso c'è un'unica cosa da vedere daniel mato contro crossfire il match abbiamo appena visto il match tra compagni dei forge in loser invece adesso il winner avremo il match tra compagni degli algeri ok vediamo un po che alisa parte in quarta bellissimo lock kick sulla doppia manata di daniel mato massimizza nonostante non ci siano muri il pendolo e lo burga con il cancana peccato perché aveva evitato la spallata il tackle l'aveva evitato e però non l'ha purgato peccato perché ha fatto un'ottima cosa spasing non è c'è una lontano db3 strana purga sul wake up e vabbè che procaso infatti che posso dire pure che c'era la vede 4 o 3 1 pari 1 pari poi stavano si sia giocato il 4 4 finale andiamo di f1 oh scriva benissimo peccato che non lo purga scivolata f4 gioco dalla super distanza peccato con l'elettrico poteva entrare secondo me se gli fa 2 1 4 4 cross ce l'ho pure che ce l'ammazza vediamo? stava per tirare secondo me se muoio lo tirerà prima o poi non l'ha mai tirato perché secondo me sa che quello ce l'ammazza con quella cosa che uno gli potrebbe fare direttamente l'off kick manco manco dove pare qui il counter il b4 qui entra scivolata di potenza impara il doppio basso di b2 e il basso anche questa è una cosa che fa sempre 1-3 lo tira sempre a fine round ed è una cosa molto rischiosa perché è pure telefonata come dice il maestro bellissimo si abbassa su corsa 2 si ma più che altro è come quando uno a fine round con lui fa bf1-3 classico si come peterloo esatto o vinco io o vinci tu esatto l'età rischi proprio perché lo perri c'è proprio telefonata come mossa simba già in taiwan esatto bello l'off kick è in rage quindi è sicuramente morto e non la usa nemmeno 3-1 3-1 per un Daniel Mato decisamente convincente incontenibile incontinente l'abbiamo visto soltanto sofferente contro David Kazuya esattamente vediamo un pochettino che si inventa crossfire se farà un cambio ricordo che questa è la finale vincenti e quindi poi dalla parte loser è rimasta solamente la finale perdente quindi tra Bode e David Kazuya Bode e David Kazuya il vincente sfiderà il perdente di questo match di questo match abbiamo poi intanto 1-0 per Daniel Mato il formissimo devo dire solidissimo solidissimo è un gran match che ha fatto contro Fake Potter veramente un gran match se non sbaglio l'ha fatto lui mi drogo? no Fake Potter? si no contro cosa? contro Harry Potter? era un po' nemmeno? no che ha fatto? David Kazuya ha vinto ha vinto ah no ti confondi con The Best che usava Kazuya quindi credevi fosse lui poi Xeon poi David Kazuya poi Bode cioè non gli ultimi arrivati direi proprio di no insomma si è fatto un bel mazzo ma anche Cross Cross praticamente ha battuto tutte le Shaiu che c'erano ha battuto Rikimaru ha battuto Mithrast ha battuto ah no Ziosolid che ha fatto un gran torneo beh ha avuto un cirone a forse un po' più facile lui giusto Rikimaru gli è capitato beh Mithrast qua Mithrast e Rikimaru e Ziosolid che comunque stava giocando benissimo si ha battuto ha usato Bob il counter praticamente è andato bene comunque 1 a 0 per Daniel Mado ma 1 a 0 di round per Cross bravissimo Bravissimo Cross che blocca questo questo basso non arriva a muro oh no nooo goloso troppo goloso e poi ne è da 12 eh si eh si si è voluto essere a punto di esagerare perché forse pensava di averla mandato a fuoco bravissimo camion senza freno chiede dov'è Ghirlanda Ghirlanda è in regia cioè qua a fianco qua a fianco purtroppo a Gigiano allora ricordiamo che io il cui presente è Simone Ghirlanda boss tutti i membri dello staff che hanno partecipato e collaborato per l'organizzazione di questo torneo per i test ancora porzione confita non hanno partecipato al torneo perché sennò è troppo easy per noi bravissimo microstep il terzo colpo della sequenza e lancia in maniera veramente perfetta bellissimo dietro 4 spazzata al muro spazzata ancora? io no oh mio Dio la freddezza di cross ho preso troppi rischi comunque Daniel Mato c'è veramente un po' ma ste cose lo perdi portamuro no ma finchia ci arriva la voglia 2 2 1 3 scusate 2 1 4 ancora non c'è giocato eh 2 1 2 4 4 prendo in counter almeno una volta sapo il gioco deve giocare bravissimo ha tirato subito instant prende vantaggio pugnetto basso che non si dà perché uno lo tira bello prende ah di nuovo che ci prova fai il basso dopo forse perché sa che gli sta rispondendo di alto manda a voto potrebbe entrare oh ha entrato da 13 l'ha mandato a voto bravissimo bravissimo però non è morto non è morto oh scusa di entrare gli ha toccato le palle scusa la sacca a sfrotare mamma mia comunque bravissimo su reazione gli ha giocato la rage at ma sulla mossa singola su df1 mandato a voto parliamone cioè veramente bravo bravo anche cross sta dimostrando di meritare questa winner assolutamente si stanno giocando tutti e due starà bene oh prende va in thread fortuna fortuna per daniel madro il thread lo favorisce eh si manco poco però si trova di nuovo spalle a muro ahia si gioca il gatto il truppo non se lo gioca eh non se lo gioca attenzione brevissimo di nuovo di nuovo doppia manata quadrupla manata lo prende a manate sugli stinchi due quattro due due quattro la finta è questa qui con l'armor dopo è una trappola bravissimo barra rialzo 2 le mano 12 di nuovo schiva subito non tira immediatamente due uno io voglio che lo tira almeno una volta la deve tirare e quello glielo para così che passa voglia e niente niente eccolo ahia buona bravissimo si era giocata la trotta l'ha mai stato usato uh che elettrico però non entra già col però questa volta la gioco c'è arriva al muro sicuramente lo rompe pure di nuovo muro potrebbe morire no evitaggio quattro df1 bravissimo bravissimo grossissimo grossissimo fa sul sicuro si gioca su due la rage art mamma mia mi ha tirato sto df2 proprio che fai te vieni qua in faccia pesantissimo questo era era una situazione di grande svantaggio e l'ha convertito bene si viene anticipato l'f4 df1 df1 1 1 2 lo flotta lo porta abbastanza centro stage aia andiamo vai prende vantaggio buona la punizione 2 subito finta ma mai sta più avvenza rosicchiando tutta la barra di nuovo non lo gioca non lo gioca para finta presa doppio punto bravo bravissima bravissimo lo prende lo prende il counter non chiude finta di nuovo bravo finta finta contro finta della finta della finta e alla fine guarda cosa 2 a 1 per crossfire 2 a 1 per crossfire perché a world tour passata crossfire passata crossfire passata crossfire no e finale winner era già fd3 1 generico si ok bravissimo ha avuto la festezza riusci a vincere il round abbastanza yo Eddie welcome italiano italiano no si corea db4 prende il counter lo manda lo rialza mo dovrebbe riuscire a rompere ff2 schiaccia a terra dietro 2 db2 db4 di nuovo il commento è stato grossissimo grossissimo e sa che oh si è dato una svegliata nel mare 2 a 0 per lui possibilità di di andare a pareggiare e quindi vedere un bellissimo final match bravo peccato bravissimo 1-2 counter di nuovo lo rialza fmado in counter e la mossa sua vabbè mossa pagamente buona di poco eh oh bellissimo qua pezzaccio questa fa male no bravissimo spara df1 prezzo che non si gioca altre cose e bravo e bravo rialzo 4 perfetto bravissimo daniel è riuscito ad avere una pazienza infinita stavolta uis daniel mado uis daniel mado uis daniel mado uis daniel mado che vuol dire che daniel mado è famoso esatto perchè c'è la negazione del trolling daniel mado pam 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 un'unico un po' più efficace sarebbe meglio nome e cognome non è poco il massimo aaah l'ha tirata l'ha tirata se l'è presa nooo l'ho detto è incredibile se l'è presa porca miseria sono rimasti in quattro passi di nuovo bravissimo bravissimo splatta gli fa brutto l'ip4 vantaggio df3 un'apparato doppia manata ancora doppia manata oddio che è successo teleport bravo teleport è di nuovo uno giù tre quella cosa lì comunque questo questo elemento non è piaciuto a Dario Natoli no assolutamente no oh lo prende sull'anticipo di f4 di italian book si esatto è meglio di Fireblade hanno giocato un match di mirror e Daniel Mano ha giocato ma che è davvero sì quindi sicuramente Daniel Mano è il migliore gene per te vabbè stiamo finta magari stiamo finta dipende ho risposto solo oh bravissimo attenzione perché stanno uno pari e sul due pari cioè partitona questa è la partita decisiva no va benissimo sono due a due uno a uno super equilibrio questa volta questa volta l'ha parata la doppia manata ancora parata riazzo quattro ha sviluppato la vedenza cerca la giro loll loll oh si lo prende portare muro si salva a buce di culo me lo guardi e muore così bravissimo questo è il match point questo è il match point per crossfire il crossfire su tre di nuovo doppia manatina su tre rialzo due che però riesce a convertire lo prende il sport arriva pure al muro non gli leva poco l'FF2 che lo tira così mentre recupera si era passato si è alzato si ecco di nuovo di nuovo due uno quattro quattro imparabile sappiamo aia l'FF1 quattro combo riesce a entrare si guardano da lontano il cagnesco si gioca bravissimo e questo è il double Luigi due a due due round pari sono al final round decisivo degno di una winner final bravissimo fatto un pezzo adesso la rage drive va accorto di un attimo sulla con la Perry di nuovo basso ancora il basso è il doppio la peccata tra un missile e mezzo per terra e quattro bravissimo quale vera un mille quale vera un mille perché rompe anche il muro eh si si caccia a terra però invece di cercare di fare il gioco un uno che entra oddio c'era il counter e muore così no bravo para para dove è arrivato dove è arrivato mamma mia si ha il cardiopatto che match è è Grazie.